ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi faremo l'albero di forza andiamo iniziamo dal basso con i rami H ecco qua e poi ce ne sono anche altri perché con un rammetto non penso che con un rammetto mi sa che è un po' spennacchiato allora io li metto te li allargli mi raccomando dobbiamo metterli bene mi manca uno non lo so ormai ne manca uno un rammetto manca un rammetto manca un rammetto al rammetto l'ametto H presente l'ametto G presente l'ametto è andata a finire è fermato tutto ragazzi allora aspetta che ho messo un po' fino no scusa ecco così ok e altri rami racca altri rami racca l'ametto dobbiamo iniziare con i rami i rami G ah ok rami G l'avessi prima ecco ma quelli là dietro di te che rami sono guarda un po' perché secondo me color animo H ecco ma infatti questi non vanno bene abbiamo sbagliato ma che geni che siamo no perché mi sembravano troppo colti per essere i rami H perché non si pensavano più dei generi altrimenti si confondono perché era giallo e quindi non c'era nemmeno scritta la lettera e quindi metteravamo anche i vostro quelli solo che l'avevamo considerato chiaramente lì oddio noi siamo proprio intelligenti stavamo facendo l'albero al contrario dai rami più corti ai rami più lunghi allora ecco allora ricominciamo bello i rami più corti ai rami più lunghi ma infatti non avevamo senso bello bello albero ma aspetta noi non lo risparliamo ecco ecco oh mamma entra non lo so vai è entrato ok questo è l'altro questo è l'altro questo è l'altro g h ce ne manca uno Ora faremo un tagliato. Grazie per la visione! Ok, adesso metteremo le lucine. Allora, intanto accendiamo le lucine così le vediamo e si vedono anche come le mettiamo. Io te le passo. Eccole. Ma se ti arrotolo la mamma ne srotola, eh? Perché arrotolo vuol dire tenere il rotolo. Aspetta, no, non mi spari perché se no poi dopo non riesco a ammettere. Questa è firma lì che si annodano tutte. Vai, cammina, cammina. Su, fa tutto il giro dell'albero. Aspetta, no, non sto capendo. Allora, mettiamo le lucine in fondo, in fondo. Aspetta che se no ci pestiamo. Che è successo? Perché come mai c'è un petto? Perché si pensa un petto che è da lì. Aspetta, capiamo? Ok, albero pronto. Allora ci abbiamo messo tutte le lucine e ora le palline. Le palline ora le dobbiamo andare a prendere perché la mamma con il suo mal di schiena non c'era una riuscita. Ora vi faccio vedere Antonio e l'ognomo. Eccolo. Antonio e l'ognomo, eccolo tu. Vi faccio vedere anche questo tappetino che metteremo sotto la base dell'albero. Adesso inizieremo a mettere le palline al nostro albero. Inizieremo a mettere le palline al nostro albero. Allora abbiamo portato a mettere le palline al nostro albero. Allora abbiamo portato a mettere le palline al nostro albero. E adesso questa che non c'è il filo però si può attaccare la stessa. Allora abbiamo portato a mettere le palline al nostro albero. Dovamo portato a mettere le palline al nostro albero. Allora no. Non so esattamente come si mentre. Ok. esattamente ok perfetto allora preghiamo già così non toccarmi davanti ok ecco così tanto la mamma sono schelluttica voglio far ammazzare aspetta guarda ci sono anche dentro la spatola guarda sto mangiando Antonio lo gnomo anzi Antonia l'agnoma ciao io sono Antonia l'agnoma ok iniziamo a mettere le paniglie che bello questo è sul davanti di solito per i più carini si mettono sempre sul davanti sai dove l'abbiamo presa? no perché io non c'ero c'era di siera c'è c'è scusa non mi è arrivata perché sperimentale è la piccola ti faccio vedere è più piccola piccola no? che è bellissimo perché c'è tutta la tua qui con questo guarda se vedete che a volte si usa il telefono non so se anche voi avete più classi non so perché arrivano a dire le paniglie di timore è bellissimo questa è troppo bella ragazzi volete un'esplosione brava? tu 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 vedete se hai detto che brava non so se non lo trovate è un busto ok ora non so se non lo facciamo andiamo a mercantina yes e ovviamente faremo anche un video solo che non vedrete il signor Gagliardo ok non ci sarò no ora vedrete mia zia e anche la mia zia sì la mia zia sì e i veri e i veri amici 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 vedrete un bel po' di cose ora voglio vedere questo che l'avevo fatto a catechismo non è quest'anno ma tutto qualche anno fa cioè qualche tutto due anni fa tutto carino solo che ora sono un po' di tutto e poi l'opalina più bella cioè più bella no però tra le più belle c'è questa guardate che bella è una nave da crociera è la nave da crociera con cui va bella e mamma andavano in crociera quando ti è in faccio male davanti qui c'è qualcosa wow ragazzi sono bellissimi adesso sono a cuore wow questa abbiamo bisogno di rock poi attenzione perché questa è fragile però è bellissima però aspetta non c'è un di vetro cioè sono a mezzo di vetro cioè non so vabbè comunque ora andiamo a mettere queste due e poi faccio vedere le palline di Belle che sono in questa scatola e poi facciamo il team Lapse sarebbe il team Lapse allora qui c'è una pallina molto carina molto cute guardate qui questa è di New York molto carina sono diversi andiamo wow quelle ci sono qua quelle che ti sono sempre piaciute ragazzi 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 devo farvelo vedere però stop il video perché vi hanno visto molto di più quelle che mi sono sempre piaciute sono queste guardate questa 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 sì ce ne sono veramente tante aspettate perché mi vado a capire in bocca ok questa 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 no questa non c'è ne fame questa dov'è il mio biscottino amore il mio biscottino natalizzino guarda qua se la dentro la scatola la davanti il mio amoruccio eccolo ciao molti di voi penseranno che molti di voi diranno ma perché sto dando un bacio al biscotto perché fin da quando l'ho comprato è stato sempre il mio preferito uguale a questo però c'è sempre il cartellino venire ad aiutarci no ragazzi questa è troppo bella è anche squishy guarda questa squisci guardate questa aspetta questa e questa altre palline molto carine e Antonio non le ha ma vabbè sono queste allora c'è questa che adesso scusate ma c'ho e frattemma anche il telefono in mano quindi è difficile di prendere ok no ora queste ok aspetta mettiamolo in modo scusate vai mamma si stima perché io ho il telefono in mano e quindi è difficile per me poi questa guardate che bella perché qui è tutta dorata e poi qui c'è qui è non so cosa stanno però ha forma di fiori e anche questa è molto molto bella però quella che mi piace di più è questa perfetto ora abbiamo messo l'albero nella sua posizione finale e però dobbiamo finire di attaccarci le palline guarda quante ce ne sono guarda qui ce ne sono scatola piena ecco quante ce ne sono in un sacco intanto l'abbiamo già messa prima anzi un bel po' prima come avete già visto e adesso continuiamo secondo me non so se ci saranno tutte tutti gli anni è sempre un problema mettiamo quelle meno diciamo meno che reputiamo meno carine le mettiamo sul dietro una cosa soggettiva perché in maniera nel dietro si infatti sono cose molto soggettive guardate la mia preferita bellissima il cielo è carino il cielo è carino è carino è carino è carino è carino ora è carino è carino è carino mettiamo questo l'hai fatta a quest'anno invece se lo mettiamo mettila in fondo con i grossi stagli si vedono bene per aspettare bastiamo un pochino ok perfetto questo è molto carino questo verde questo verde è molto bello è anche no ragazzi questa è bellissima guardate ha tipo un occhio qui poi qui è viola verde acqua è bellissima mettiamo anche in fondo perché sennò è bellissima infatti sto mettendo tipo qui la farfalla bella domanda la farfalla la farfalla io sono una persona che mi piace se non riesco a scombinare i piani ecco guarda un po' guardate questa è la villanda non si era notato che era una villanda e poi faccio vedere il biscottino e la casetta di marzapane dove l'abbiamo poi il biscottino l'abbiamo attaccato qui poi c'è la storina e poi faccio vedere una cartina molto bella che mi aveva fatto una mia amica l'anno scorso Rachele che l'avete vista in alcuni video quindi la saluto ciao ok mettiamo ok sì ma c'è anche un'altra casetta ma la bellezza cioè la vedete ok continuiamo wow wow ragazzi guardate la pallina tailandese ma quando è quella di... ah però poi stasera mangiamo la siena tailandese wow la siena tailandese è basata allora si mangia il pollo con la soia d'alba e cipollina e il riso con la soia d'alba e cipollina e il riso con la soia d'alba e il pollo vi consiglio di provarla poi se non siete amanti della soia non so se consigliatela ma se vi piace la soia allora vi consiglio di provarla sai che direte la siena tailandese? no sì perchè è molto bella questo è l'altro cocco ok eh vabbè vabbè ovvero l'albero è finito guardate vabbè facciamo vedere bene vabbè è bellissimo guardate qua su c'è l'angeletto e la stellina poi qui c'è la farfaga e questo è tutto l'albero scrivete nei commenti se anche voi avete fatto l'albero ragazzi noi speriamo che il video vi sia piaciuto mettete like iscrivetevi attivate la campanella seguitemi su instagram e scrivete nei commenti per essere salutati ciao scrivete nei commenti se anche voi avete fatto l'albero di natale ciao ci vediamo domani per il presepe ciao 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 ciao